Ancora una volta vieste tra le protagoniste qui sul Gargano, in Puglia, non solo regina del turismo e dell'estate ma anche dello sport in questo caso? Assolutamente, vieste come forse saprete candidata a Comune Europea dello Sport grazie all'assessore allo sport Dario Carino che ha creduto fermamente il nostro percorso e la settimana scorsa abbiamo avuto la visita della Commissione Europea per difendere con i denti questa candidatura che crediamo tanto e questo è uno degli appuntamenti che in realtà sono quasi un corollario di questo percorso che è già stato in capeso tempo prima tant'è però che il Comune di Vieste ha sostenuto già nelle anni passati questa manifestazione perché crediamo non solo nella forza e nell'importanza dello sport ma anche per un discorso di valenza turistica, questo è un evento che aggrega, è un evento che porta molta gente a conoscere il nostro territorio attraverso le squadre, attraverso i tecnici, le famiglie a supporto degli stessi e quindi questo significa far parlare di Vieste, farla conoscere e noi siamo felici perché questo genera indubbiamente economia sul nostro territorio. Grazie a tutti!